Carisa Michelese, a seguito di comunicazione pervenuta dall'Astria di Avellino, si informa la cittadinanza della situazione reale in cui il nostro comune si è ritrovato. Dagli atti ricevuti, risultano tutt'oggi su 84 tamponi effettuati 15 casi positivi, con la media di circa il 20%. La situazione attuale è sotto controllo e sono stati applicati i successivi provvedimenti. Le misure che questa amministrazione ha adottato sono le seguenti. La chiusura del civico cimitero per il giorno 1 e 2 novembre, sospensione del mercato settimanale fino alla data del 15 novembre, chiusura degli uffici pubblici fino alla data del 15 novembre, ma si assicureranno i servizi indispensabili per la vivibilità del nostro Paese. Saranno implementati controlli su tutto il territorio comunale per il rispetto delle misure anti-Covid-19. Si raccomanda di rispettare le regole, di evitare affollamenti e assembramenti, di indossare la mascherina in luoghi chiusi e all'aperto e di tenere le distanze interpersonali. Tutti dobbiamo essere coscienti che senza collaborazione non usciremo da questa crisi pandemica. Senza altruismo non eviteremo il diffondersi del Covid-19. Chiedo infine di informare tempestivamente se siamo stati a contatto con casi positivi onde evitare i possibili contagi. Un saluto affettuoso, nella speranza che tutto andrà bene da quelle famiglie che, colpite dal Covid-19, stanno affrontando con coraggio le difficoltà del momento. Grazie, vostro sindaco Michele Bocci Grazie. Grazie.